Adesso mi deve accrasciare la live mentre stavo segando lo stronzo E scusate ma ho avuto un piccolo contrattempo con uno stronzo che mi ha attaccato proprio mentre... In verità sono andato io ma... Proprio in quel momento quindi ero un pochino occupato scusate Quest'ora di priorità abbiate pazienza Anche perché non so se avete visto con che stato ero, con quanta vita... Che bordello c'è intanto? Con quanta vita ero rimasto quindi immaginate la situazione Poi ho BS che mi si era preso il focus quindi non potevo attaccare niente Bastardo! Maledetti Spada larga! Forse è già meglio Oh my fucking god Ripa ce l'ho fatta! Non lo posso neanche usare fantastico A far cosa? Ripa ce l'ho fatta! Adesso morirò come una cretina dopo ma ce l'ho fatta! A fare? A uccidere quel pirillo! A vero! 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 Oh no!! Però adesso può! Pabbè voglio fare pratica con questo che tanto ormai è meglio di così. va vai la fang oh mi ha droppato una braccia però eh vero vero io ho dimenticato di te però non è giusto che l'uchino non giochi così lo fa solo per vincere ciao ragazzo ti hai trovato? porco schifo mi ha fatto prendere un colpo sto cretino si è proprio Dark Soul tu torna pure giù violo voi pregate il sole un sole è un po' strano visto che ne fa indemoniare uno stavolta mi son ricordato che c'eri tu stronzo e no no mi prendi tu che cazzo no mi ha ucciso mi ha ucciso devo riuscidere quel coso gigantesco e io ci sono morto da quello quando lui era quasi morto perché è una gittata della madonna quello struts si arriva uber lontano si oh ma che troppo oh qua c'è un cattolo eccolo lo sapevo che c'era qualcosa ah già andiamo a riprendere le anime di prima però c'è un counter da qualche parte per le anime perse stato no sarebbe già in overflow comunque probabile non sono venuto di qua per di là calma ok qui non c'era niente no oh 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 hello ahia ma non mi tirare su merda merda muoio di nuovo e perde tutto no 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 porco giuda struts struts cosa ho droppato cosa ho droppato scudo grande di lotrick che non posso usare 36 ho trovato uno scudo grosso troppo grosso le mie animelle ma guarda cosa ho trovato qua la mia segreta dove è il trappolone per due fiori verdi non fanno esattamente le stesse cose fiori verdi si è uguale ripassando tu troppo avanti io sono ancora ferma lì praticamente più che altro sto andando indietro sto recuperando tutta la parte indietro ancora e neanche tutta perché ce ne sarebbe ancora una parte che non ho fatto uno lì ho droppato e luchino è ancora lì farmi in città? no se lo sta giocando anche lui così solo non lo so devo sopravvivere in un tempo pure che sono qui cretino ah pazienza bravo vengono solo i cagnolini prima no guarda di qua sì ma quanto devi scattare tu vai giù tu vaffanculo violò prendi e corri prendi e corri scheggia destus no 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 visa ho un po' di gente incazzata che mi vuole fare la pelle adesso non posso se lo andiamo dal tizio grosso l'altro non mi ha cagato neanche di striscio ok quale? no c'era un tizio che ero convinto che mi venisse dietro invece il nemico temibile più avanti non troppo su io provo a stendere di qua no cane no 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 cane no cane cane cattivo mangio un kitkat e non ci vedo più dalla fame mangio la fiesta ma vaffanculo mi ha di nuovo inshottato è stata troppo gollosa troppo gollosa e invece direi che per stasera sono morta abbastanza chiave della cella no l'hai già trovata ho visto un 32 di danni dietro il muovo ok kickass va bene ragazzi io mollo qui il nemico temibile più avanti ma adesso c'ho le bombe grande au niente buona continuazione vabbè è passato da 31 a 51 madonna che cosa? le bombe bombe incendiarie verso contro le bombe nere no no tu gira va a girare le balle da un'altra parte buonanotte a tutti bye bye ciao Isa ah 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 adesso c'ho lo scudo che parla 100% fisico ah 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 che non serve un ca fantastico vieni beh occhio che vi è no sono troppo là stai lì bravo ma dai ma bastardone spero che ci arriva lo stesso porco giuda brace non puoi andare dieci centimetri più indietro per favore non è che ti dispiace se sta lì no 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 porca putt no ma vaffanculo mi hai detto proprio e non mi ha dato nope allora c'erano dei drop poi li ho già presi tutti via che bello però che che si era buggato non ho fiasche non ho fiasche non ho fiasche mi prospetta una bella scalata quella non mi fai già prendere i colpi anche i fantasmi anello del sacrificio non perdi nulla alla morte ma l'anello si rompe ah come quelli di sarà come di dark soul che si rompono definitivamente che puoi ripararli più che altro ripararli quanto costerà perché devo farmi male questo è un fallò dai è un fallò dai non mi fido di qualmeno ho già esplosato un pezzettino fino qui ci sono cui si per ora io lo io lo io lo oh porca putt oh porca putt pensavo ce ne fossero di più no? che vabbè vabbè oh oh c'era verde oh il primo ma che ingenuo non si vabbè si è già coapirla non è un dark soul se no 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 eh prova lingua ma bu questo messaggio è da prendere all'inglese traducetevelo se volete ho capito dove sono fichissimo così un po' meno che c'è lo strumento dietro ho capito dove sono ho capito dove sono quanto mi mancava anche il raro oh minchia però adesso ci sono i cani e anche lo stronzo non è che qualcuno sapevo delle frecce nel ginocchio ma nella spalla qualcuno sa corri 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 come for your life oh viaggia andiamo a livellare torre oh ok ho anche quello là altare del vincolo andiamo a livellare andiamo a livellare e oh 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 rilevare rilevare farò un livello rilevare i tuoi desideri avanza di livello rilevare i tuoi desideri allora pulisci la scubbure dentro me di rilevare di rilevare grazie che cazzo faccio salire Vita, compiamo vita Tu mi vendi qualcosa di nuovo? Dovrò uccidere qualche boss prima, vero? Ah, era buono, non era? Però aumenta così, eh, scusa, è vero, c'ho la fiaschetta di Estus Mentandone gli usi Assegna Estus, sì, sì C'è già una fiaschetta di Estus in più Che cazzo si fa? Per stasera Ne ha già due coglioni anche lui Buonanotte Diego Tanto vado anch'io Faccio di nuovo un bel saluto Saluto tutti Saluto anche a Mazza che Mazza Con un ascia lo so Ma quello non ho ancora Guardo ancora se il tizio Se il fabbro o Andre vendere ancora qualcosa Non mi pare di aver visto vendi O acquista Infatti Quindi Buonanotte a tutti Alla prossima domani a morire altre volte Ciao 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 Grazie a tutti.